Debuto casalingo per la nuova squadra dei giovanissimi nazionali, che iniziano il loro cammino in campionato sul campo sintetico del Farfov, nella zona sportiva di Via Maso della Pieve, ospitando il Brescia allenato da Sergio Volpi, ex mediano di Piacenza e Sampdoria, nonché della nazionale di Trapattoni nel 2004. A Bolzano si gioca in una tarda mattinata gratificata da un sole caldo e da una buona affluenza di pubblico. Ottimo approccio la partita dei biancorossi del Sutirol, che prendono da subito in mano le redine del gioco, cercando una manovra fluida e snella, volta a cercare la profondità. Il Brescia esce dal guscio all'ottavo quando un errato disimpegno di piede di Lucas Demetz regala una palla a gol a Brambilli il cui pallonetto è fortunatamente alto. Ma i biancorossi tornano ad impossessarsi dell'iniziativa e al dodicesimo De Luca ha lanciato in profondità, conclude fuori misura da posizione di filata. Si fa più intraprendente anche il Brescia con Martinelli che al quindicesimo si guadagna un angolo. La battuta dalla bandierina di Brambilli trova un doppio velo che agevola il destro di Milanesi, ma Lucas Demetz si distende in tuffo e sventa la minaccia. Le giovani rondinelle approfittano del caldo dei biancorossi e al ventesimo il Sutirol si fa prendere di infilata sulla sinistra, con paderno che serve il taglio centrale di Milanesi, il quale in estirada non inquadra la porta da due passi. Al ventiquattresimo i biancorossi rischiano ancora di farsi male da soli, con retro passaggio corto di Cagliari che costringe l'ottimo Lucas Demetz a salvare in due tempi su Brambilli. Ma al ventotesimo è Sutirol a sfiorare il vantaggio, con Dallaglio che tiene in campo un difficile pallone e poi lo scodella per la poderosa incornata di De Luca, sventata in volo da Mandelli. Il gol però lo segna il Brescia poco prima dell'intervallo favorito da un errato al retro passaggio di Menghin, che agevola il cross di Brambilli per il comodo controllo e il tiro piazzato di Milanesi, che non lascia scampo a Lucas Demetz. Primo tempo che si chiude con le rondinelle, in vantaggio per 1-0. Si riparte in entrambe le squadre, con gli stessi effettivi che hanno concluso il primo tempo e col Sutirol che all'ottavo, con bel movimento in area di De Luca, insiede la porta avversaria. Insistono i biancorossi e al dodicesimo Santin mette palla in profondità per De Luca, il cui diagonale teso esce a lato di un metro. C'è solo il Sutirol con Tappainer che al diciottesimo imbuca uno splendido pallone per il neo entrato Philippe Demetz, su cui tiro ravvicinato Mandelli compie un autentico miracolo. A forza di attaccare il fortino difensivo del Brescia cade al 34esimo quando una punizione cross di Dall'Aglio viene sfiorata di testa da De Luca per la rete del meritatissimo 1-1 risultato con il quale si chiude la partita e l'ottimo debutto in campionato dei ragazzi di Mister Morabito.